mercoledì 15 warm up 3 7 di 10 superman pull down 20 metri quindi in avanzamento di walking lunges e 30 arm circle dove andremo a farne 15 in avanti e 15 indietro per quanto riguarda invece il workout sono 6 7 di che cosa due minuti di lavoro e un minuto di riposo nei due minuti di lavoro dovevamo fare che cosa 5 pull up oppure inverted row 15 air squat e il maggior numero di push up nel tempo che vi avanza nei due minuti poi c'è un minuto di riposo abbiamo detto tutto ciò per sei volte lo score della giornata sarà dato dal numero di push up che andremo a completare in tutti questi set per finire abbiamo not for time come cash out quindi non mi interessa che lo facciate veloce interessa che lo facciate bene che facciate un bel movimento sono 50 weighted russian twist primo movimento superman pull down quindi partiamo dalla posizione di superman braccia tese lungo le orecchie gambe tese portiamo i gomiti verso i glutei mantenendo le braccia parallele al pavimento pensando bene ad attivare i dorsali chiudere le spalle secondo movimento walking lunges quindi affondi in avanti camminati con il ginocchio della gamba dietro che tocca il pavimento se non abbiamo spazio per fare l'avanzamento li possiamo fare sul posto dopo di crea arm circle circonduzioni in avanti per una quindicina di ripetizioni a braccia tese altrettanti 15 indietro movimenti del workout se avete una sbarra alla quale appendervi solida potete eseguire dei keeping pull up quindi mani un po più larghe delle spalle eseguiamo le superman pike and pull quindi distendo l'anca tira arrivo con il mento sopra la sbarra possiamo in alternativa eseguire strict quindi tirando a braccia tese senza nessun tipo di keeping oppure fare degli inverted row al tavolo quindi ci posizioniamo sotto il tavolo la spalla più o meno in linea con l'appoggio gambe tese nella versione più difficile gambe piegate nella versione un pochino più semplice tiro fino a portare il petto il più possibile vicino al tavolo in alternativa ancora potrete fare se non avete un tavolo al quale appendervi degli high pull solo delle tirate al mento dopodiché secondo movimento air squat i piedi saranno un po più larghi delle anche le punte leggermente in fuori eseguiremo una cosciata completa arrivando con l'anca più in basso del ginocchio braccia tese mani rivolte verso il soffitto e per finire push up mani sotto le spalle gambe tese addomativo mi spingo via da terra blocco i gomiti completo e reggi movimento e ritornando con petto e cosce al pavimento per finire weighted russian twist quindi prendiamo il nostro peso quello che usiamo solitamente per allenarci lo portiamo davanti al petto staccato dal corpo lo teniamo sollevato solleviamo le gambe rimaniamo in equilibrio sui glutei e portiamo il peso da una parte all'altra senza cercare di muovere i piedi qui c'è a